Ciao, sono Alan di Garoni Immobiliare e oggi ti accompagno nella visita di questo appartamento in affitto. Siamo in zona Filanda, nel complesso Ex Apida e più precisamente ci troviamo in un bilocale al piano terra con un ampio terrazzo vivibile e il suo garage al piano sottostrada. In questo ampio terrazzo accediamo sia dalla zona giorno che dalla camera da letto matrimoniale e dietro a questa persiana si trova un ampio ripostiglio dove sono alloggiate caldaia e lavatrice. Dal disimpegno accediamo al bagno e alla camera matrimoniale. L'appartamento è dotato di riscaldamento indipendente ed ha l'aria condizionata sia nella zona giorno che nella zona notte. È completamente arredato ed è dotato anche di lavatrice e di lavastoviglie. L'appartamento è nuovo e sono sicuro che dopo questa visita digitale vorrai essere il primo ad abitarci. Perciò contattaci! Ci vediamo in visita!